Arriva la stretta delle fiamme gialle sui BNB abusivi. Solo negli ultimi due mesi i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli ne hanno individuati 32 anche in ville di lusso sparsi nelle principali mete turistiche del territorio campano. Malgrado fuori norma inoltre le strutture venivano promosse e pubblicizzate sui principali portali web di prenotazione. Complessivamente gli uomini della Guardia di Finanza hanno presentato 27 denunce e numerose sanzioni amministrative. Si tratta dell'altra faccia del boom turistico. A Napoli infatti per far fronte alla sempre maggior presenza di visitatori c'è stato un notevole aumento delle attività economiche volte ad assicurare una sempre maggiore capacità ricettiva. È il caso degli affittacamere, delle case vacanza e dei bed and breakfast che nei primi sette mesi dell'anno hanno fatto registrare un incremento del 24,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Peccato che però in molti casi i gestori in spregio alle regole abbiano offerto i servizi senza adempere a quanto prescritto dalla legge così da poter evadere le imposte. La maggior parte delle attività, ciascuna in grado di ospitare dalle 4 alle 6 persone, era all'interno di immobili condominiali dato che ha reso più complessi controlli. I prezzi praticati sono risultati in linea con la media di mercato ed è stata riscontrata quale principale modalità di pagamento il denaro contante. 4. Le strutture individuate a massa Lubrenza all'interno di 4 ville di lusso, tre delle quali dichiarate come prime abitazioni, con capienza dalle 6 alle 8 persone ciascuna, prezzo richiesto dai 2 ai 3.000 euro a settimana. A fuori a Dischia poi c'era chi gestiva 4 mini appartamenti all'interno di un unico immobile, ognuno con ingresso indipendente e fornendo moltiplici servizi accessori, ed era completamente sconosciuto al fisco.